Da sola, poverina, è morta con un lenzuolo sopra, con un gatto vicino, ovviamente anche lui morto, di stenti e di inedia. Una cosa così mi ha colpito e per questo motivo, visto che non pare che ci sia nessuno che voglia pagare il funerale, mi sono reso disponibile a pagarlo io. Il lulosa della procura è arrivato ormai otto giorni fa, ad oggi però nessuno ha reclamato la salma a farsi avanti così adesso è un avvocato a retino, Domenico Nucci. La vicenda è quella relativa al caso della 92enne, Carla Maria Bazzani ritrovata senza vita in un appartamento di Via Montanara in avanzato stato di decomposizione lo scorso 31 agosto. In questo caso ti viene spontaneo fare qualcosa, dire ma non è possibile che accadano questo, visto che accadono anche queste cose, diamo una degna sepoltura a questa signora che se lo merita. Se poi qualcuno mi vuole aiutare faccia lui, ma se non mi aiutano lo faccio da me. Anche il comune di Arezzo si era detto pronto a farsi carico del funerale se parenti non lo faranno. Quello che però non è possibile per un ente terzo, in questo caso il comune, questo o un altro, decidere quando farà le esequie di una persona che non ha rapporti né giuridici né familiari con chi è deceduto. Quindi è necessario che arrivi una indicazione per cui si dà mandato all'amministrazione se vuole di procedere. L'amministrazione vuole, ma aspetto il mandato. Intanto vanno avanti anche le indagini. Le prime risultanze dell'autopsia hanno escluso la morte violenta. Il corpo senza vita della donna era all'interno dell'appartamento da almeno 4 mesi, se non addirittura 6. La figlia della 92enne, rintracciata dalla polizia a Rimini solo alcuni giorni dopo il ritrovamento del cadavere, adesso è indagata per abbandono di persone incapaci e truffa aggravata ai danni dell'Inps. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.